Nel mare di Pescara, la veleggiata di San Valentino, evento di solidarietà in favore della Lilt, lega italiana lotta ai tumori, un mare d'amore, regala uno screening al tuo partner, che vedrà protagonisti tutti i circoli velici di Pescara. Dopo soli due mesi torna la veleggiata d'amore, un evento importante dove andremo a promuovere lo sport, un corretto stile di vita, sano ed equilibrato, ma soprattutto la prevenzione seguita dalla solidarietà. L'obiettivo è quello di educare i nostri ragazzi al tema della prevenzione. Sappiamo benissimo che nel momento in cui si scopre un tumore nella fase iniziale abbiamo quasi il 100% di guarire. Io ringrazio i due circoli velici del nostro territorio, sia la scuffia che il circolo nautico, che si sono messi a disposizione, non solo per organizzare questa veleggiata, ma soprattutto per dare la disponibilità dei loro locali, dove verranno effettuate delle visite gratuite. E per questo ringrazio sia la Maico che la Lilt. Invito tutta la città di Pescara a partecipare. L'evento presentato dall'assessore Patrizia Martelli con il presidente della Lilt, Pescara Bruzzo Marco Lombardo, Mauro Menzietti di Maico Italia, partner della Lilt. E per la scuffia il presidente Marco Bovani con Giancarlo Casuscelli, Luciano Basti e Adolfo Dolci. E per il circolo nautico Andrea Venditti. L'11 febbraio dalle 9.30 fino alle 13.30 e dalle 14.30 fino alle 19.00 presso il circolo velico La Scuffia e il circolo nautico 2018 Pescara.